Allora, appena finito lo scrutinio, facciamo un commento a questo ballottaggio. Sì, abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo avuto un grande recupero, c'erano 2000 voti di preferenza e abbiamo chiuso sotto di 230, più o meno. È un peccato perché siamo andati molto vicini al grande risultato, adesso abbiamo un nuovo sindaco, spero che lavori bene per la città, noi staremo molto attenti a quello che farà e verificheremo questo cambiamento a voluto degli uvinesi, un cambiamento che guarda avanti oppure un cambiamento che guarda indietro, come ho detto io in campagna elettorale. Insomma, comunque faccio in bocca al lupo al nuovo sindaco perché è l'interesse di tutti che lavora il meglio possibile. Che cosa è mancato, se è mancato qualcosa? Non ho niente da riproverarmi e soprattutto non ho niente da riproverare alla gente che ha lavorato, perché hanno lavorato tutti con grande passione e penso che ci fosse un sentimento di pancia di molti udinesi, un cambiamento poco razionale, però questa fa parte della politica questa cosa qui, evidentemente in qualche modo è per poco riuscito a prevalere.